Madame, arredami il cellulare. Grazie. Pucca. Non si può cuocere. Sembra buono. Sembra anche a me. Il mio è ottimo. Sì. Assaggia. Sperizioso. Non c'è del parmigiano? Cos'è stato? Ehi, guarda, Ari, guarda. Ma Tomas, è una valamia. Sì, ma è controllata. Hai visto che forza? Che spettacolo. Ma saremo assicuri? Sì, sì, sì. Tutto sotto controllo. Papà! Ma tutto bene, sta tranquilla. Papà! Papà! Ma a me non sembra... Calma, calma. Sì! Ma, ma... Ma, è una valore! Quanno? Sì! Quanno? Sì! 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 Alla prossima. Are you ok? Siamo salvi? Sì, potete uscire. Grazie. Vera, come stai? Tutto bene? Sì. Tutto bene, Harry? Sì. Sì? Stai bene? Stiamo bene? Dov'è, papà? Sì, è che ora bella. Alla prossima. 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 Alla prossima.